Carissime amiche e amici della Champions League, incredibile ma stasera abbiamo uno scoop meraviglioso. Abbiamo con noi il Sultano, il Sultano che ormai ha già iniziato a giocare con noi con il... Mondialotto. Bravissimo, sei arrivato bene il Sultano, vero? Eh sì, quasi l'ultimo. Quasi l'ultimo. Adesso nella Champions League è appena iniziata quindi non possiamo dire come andrà a finire, ma guardatelo, guardatelo lui il Sultano, ha anche qualcosa in mano. Perché sono agguerritissimo per la prossima fase della Champions League. Dovete avere paura tutti, satanic, pronto sono Luciano, ma persino Paco Loco qui presente, tutti abbiamo paura. Ma Sultano, chi è la persona che tifa per te? Avrai un tifoso o una tifosa? Beh, la Geisha sicuramente è la... Possiamo vedere la mia principale tifosa, ma certo che potete vederla perché è... Facciamo vedere la Geisha. La Geisha del Sultano, questo è uno scoop incredibile. Oh mamma mia! Piange, non si sa perché ma piange la Geisha. Sultano, Sultano, noi la ricrezziamo tantissimo, la chiamate lei logicamente. Non so se è una pistola o qualcos'altro. No, è della Conco, una bottiglia di... Una pistola, ma c'è tutto il tappo, questo è Sultano, beh sì. Posso fare gli auguri a Tigros e... Tigros sì, che è il supermercato che c'è qua vicino. Tigro era il... Tigro voleva partire con il Sultano, ha dei problemi con la S, ma non ti preoccupare. Perché sono spagnolo, sei quindi Tigros. Comunque scusate, devo fare lo zoom su una cosa. Che tutti... Aia. Ammiscono, ma solo uno vincerà. Il Sultano fa paura signori, attenzione. Attenzione. Grazie Sultano. Grazie a voi. Grazie a voi.